Un anno sulle strade per controlli, interventi, prevenzione e tante tante contestazioni. Il bilancio 2021 della Polizia Stradale di Varese è riflesso in numeri importanti come le oltre 4.000 pattuglie impegnate in autostrada e altre 1.093 sulla viabilità ordinaria. Quasi 31.000 le persone controllate, 25.000 i veicoli, 7.500 le infrazioni contestate, la metà delle quali in autostrada. 589 eccessi di velocità, 362 casi di guida e stato di ebrezza, 16.162 i punti decurtati e 572 le patenti ritirate. Nonostante le tante auricolari e i viva voce, molta gente non perde l'abitudine di parlare al cellulare mentre guida, violazione contestata a 386 automobilisti. In aumento gli incidenti, 770 in tutto, di cui 460 in autostrada, 442 feriti, 6 gli schianti mortali.